La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco Massimo Cialente, ha deliberato la trasmissione alle responsabili unico del procedimento, ai fini di fornire preventive valutazioni della proposta di Project Financing per la riqualificazione dell'area della Fontana Luminosa. La proposta, presentata da un'associazione temporanea di impresa, composta da Walter Frezza Costruzioni, Adan Costruzioni, Ridolfi Idio e Figli e Vivelo Cementi L'Aquila e Tecnoclima, prevede la pedonalizzazione del piazzale Battaglione degli Alpini mediante l'interramento della viabilità esistente, la realizzazione di un parcheggio di pertinenza dei residenti del centro storico su un'area comunale da cedere in proprietà al concessionario, la realizzazione di un edificio per negozi di vicinato e la gestione dei parcheggi a raso su viale o video. Come si legge nel documento, l'atto di indirizzo formulato con la delibera non equivale in nessun modo alla valutazione del progetto, ma alla sola fine di fornire al responsabile unico del procedimento preventive indicazioni dell'amministrazione, dando atto che la valutazione definitiva e la relativa approvazione del progetto è demandata all'esito della verifica della fattibilità tecnica ed economica della proposta, nonché all'acquisizione di tutti i pareri necessari.